Allora Sindaco, il signor Paolo Colasanto, che si definisce utilizzatore delle strade di Genova, solleva il problema delle condizioni precarie in cui versa via Manuzio e più in generale il tessuto stradale genovese, c'è un problema di sicurezza legato agli asfalti disconnessi e quant'altro. Intanto ringrazio anche per il modo di porgere la domanda del nostro, molto garbato perché dice lo so, noi cittadini siamo mugugnoni e sempre pronti a fare richieste critiche alla pubblica amministrazione, ma l'essere comunque grato se potesse rispondermi, rispondo molto volentieri. Intanto parto dal caso specifico di via Manuzio, via Manuzio è classificata come strada vicinale, come altre strade, quindi noi abbiamo strade private, strade vicinali, strade comunali, sulle strade comunali la competenza dell'intervento ovviamente e esclusivamente del Comune, sia per quanto riguarda interventi motivati da esigenze di tutela della pubblica incolumità, sia per quanto riguarda esigenze di manutenzione ordinaria. Non è così, non c'è una assoluta ed esclusiva competenza del Comune per le strade che sono classificate come vicinali e via Manuzio sta tra queste. Nel caso di una strada vicinale il Comune fa un intervento nel momento in cui si ravvisano proprio dei pericoli reali, non ovviamente un manto stradale non adeguatamente mantenuto, ma dei pericoli reali e per l'asfaltatura completa, ammesso che ci siano i fondi, quindi che si rientri in un piano di priorità, il Comune può concorrere solo con un consorzo dei proprietari privati di questa strada che sarebbero chiamati a dare un contributo, quindi mentre una strada esclusivamente privata aspetta i privati, nella strada vicinale c'è questa forma di intervento misto, che rende ovviamente molto più complessa la procedura e anche meno fattibile perché andare a chiedere in questo momento un contributo ai diversi condomini, poi proprietari pro quota di tratti di strada diventa complesso, quindi c'è questo tema di fondo della classificazione delle strade e quindi la possibilità per il Comune di intervenire laddove ha una titolarità esclusiva, ricordo che abbiamo visto tante volte del caso del crollo di via Ventotene, della frana di via Ventotene e lì proprio la giurisprudenza, la nostra avvocatura ha detto a noi amministratori che non potete intervenire in una strada di proprietà privata, se non venite proprio sollecitati non dai cittadini, ma da un'autorità che vi dice intervenite perché ci sono delle ragioni di sicurezza comprovata, salvo poi potervi rivalere sui soggetti privati. Bene, il signor Francesco D'Ambrosio invece ci pone un problema, come possiamo dire, di rapporto fra il cittadino e la burocrazia, lui risiede in via Barrili, ha il genitore del papà ultraottuagenario che purtroppo è reso infermo da un recente incidente stradale e davanti a casa di questo genovese corre una corsia gialla, ha chiesto di poter avere un permesso di transito temporaneo, finché il papà è in queste condizioni di infermità sostanzialmente, però la Polizia Municipale lo ha rimandato alla MT, la MT gli ha detto che serve un pass disabili temporaneo, però lo ha mandato a sua volta alla ASL, insomma un'odissea interminabile per colpa di una corsia gialla e forse anche di una mancanza di un po' di buonsenso, un po' di eraticità da parte della burocrazia. Il signor D'Ambrosio descrive molto dettagliatamente, con assoluta precisione, il caso di suo padre al quale porgo davvero comunque i miei auguri migliori anche per come viene descritto nella lettera del sindaco, una persona che ha sempre lavorato e che si rapporta in una maniera straordinariamente corretta nei confronti delle istituzioni. Intanto una considerazione, la corsia gialla di cui si parla, via Barrili, è una corsia, poi ci ho pensato, mi ha fatto pensare anche il signor D'Ambrosio con la sua lettera al tema, è una corsia comunque che viene considerata assolutamente utile dagli uffici, perché è la corsia gialla che consente ai mezzi pubblici ma anche alle ambulanze che vanno verso Corso Gastaldi, quindi in direzione dell'ospedale di San Martino di non rimanere bloccate, quindi è una corsia che serve, che serve ai mezzi pubblici, ha una funzione e il portone del padre del signor D'Ambrosio è su un marciapiede che ha davanti la corsia gialla, allora come si fa? E qua si dice la burocrazia, sì la burocrazia però in questo caso è anche regole, regole importanti, nel senso che qua si tratterebbe solo del momento in cui il signor D'Ambrosio deve andare, il signor D'Ambrosio padre temporaneamente invalido, perché è stato operato da poco quel giorno lì, deve andare a farsi rilasciare il permesso, quindi non sarebbe una questione permanente che il signor D'Ambrosio, è solo quella giornata, perché deve andare di persona il signor D'Ambrosio? Perché in questo modo si evitano degli abusi, perché il pass disabili deve essere verificato in due momenti, primo momento una visita dell'ASL che verifica che la persona sia effettivamente disabile, anche temporaneamente disabile, allora la visita deve essere fatta di persona e quindi il momento della visita in quel caso, come si dice, io non farei la polemica all'ambulanza, perché se il pass è per un'auto privata, allora anche quella volta lì si può andare a fare la visita all'ASL con un'autovettura pubblica, cioè con un taxi, dopodiché col certificato dell'ASL la persona va a Genova a parcheggi e si fa rilasciare, secondo delle norme europee, il pass disabile europeo temporaneo e quindi il fatto di poter vedere la persona che riceve il pass è anche un elemento di una politica che contrasta la proliferazione di pass a disabili, che anche questo è stato un problema, che c'è stata di gente che non aveva alcun titolo e che ne approfittava, non è il caso del signor D'Ambrosio, purtroppo il signor D'Ambrosio, devo dire con una battuta, ma assolutamente che non vuole essere ironica, così in quel caso prendesse quella volta lì il taxi per andare a Genova a parcheggi, riceve poi il suo pass disabili per la vettura privata che potrà passare per le corsie gialle. Sì, io devo dire sindaco che in vicende come queste si dovrebbe trovare il modo di creare degli sportelli unici, cioè che un cristiano vada in un posto e possa espletare tutte le pratiche, francamente il racconto mi ha colpito e l'ho raccontato. No, perché ci sono questi due enti, l'ASL da un lato e la disciplina del rilascio del pass sulle corsie gialle che non è una competenza dell'ASL, è una competenza della Genova a parcheggi e Genova a parcheggi non ha la competenza che rilascia i pass per le corsie gialle, non è il soggetto che deve dichiarare l'invalidità permanente o temporanea delle persone. Fermo restando il fatto che poi ci sono anche i mezzi telematici ormai, per cui forse l'ASL potrebbe telematicamente comunicare a Genova a parcheggi di aver verificato la disabilità questo è un suggerimento, adesso possiamo lanciare ad ASL e a Genova a parcheggi e potremmo fare in modo che con un automatico passaggio della pratica si risparmi al signore di presentarsi personalmente a Genova a parcheggi. Questo è un caso, può essere che questa trasmissione, questo piccolo caso lo assuma come indicazione di un nuovo modo di procedere. Benissimo, senta siamo in chiusura, però prima di salutarci io vorrei fare ancora un piccolo passaggio sulla questione del gioco d'azzardo, perché voi recentemente avete vinto al Tar della Liguria la causa, anzi avete vinto contro il ricorso presentato da diverse società che avrebbero voluto alzerare praticamente il regolamento varato da Tursi sul gioco d'azzardo, ma freschissima è anche la vittoria al Tar del Lazio dove un tabaccaio genovese aveva fatto ricorso e invece la giustizia amministrativa ha detto che Palazzo Tursi ha ben agito nello stilare il suo regolamento sul gioco d'azzardo, che ovviamente tende a limitare la proliferazione di slot machine e quant'altro. Certo, sì, punto di partenza è la piaga sociale, non posso che definirla così, rappresentata dalla proliferazione selvaggia delle sale gioco che c'è stata negli ultimi anni, in particolare nella nostra città, non soltanto ma in particolare nella nostra città, con questa amministrazione abbiamo detto basta con i fatti alla proliferazione delle sale gioco, siamo stati ovviamente aiutati da una legge regionale del 2012 che dava ai comuni la facoltà di emanare dei regolamenti, noi abbiamo utilizzato questa facoltà e abbiamo fatto un regolamento approvato dal Consiglio Comunale che prescriveva, l'unica cosa che poteva fare, importante, importantissima, le caratteristiche che devono avere di distanza da luoghi sensibili che sono scuole, sportelli bancari ed altro, le sale da gioco di nuova creazione, quelle vecchie esistenti non potevamo revocare le licenze, la legge non ce lo consentiva, ma al termine della scadenza dei loro permessi anche queste dovranno rispettare, se non le rispettano dovranno chiudere e cessare questo tipo di attività. Allora di fronte a un regolamento di questo tipo c'è stata una balanga di ricorsi al Tar, come diceva lei abbiamo vinto al Tar Liguria e recentemente, pochi giorni fa, anche un ricorso presentato al Tar del Lazio ci ha dato ragione su tutto l'impianto delle distanze da luoghi sensibili di queste sale gioco, ci siamo confrontati con un sistema agguerrito perché i soggetti, gli avvocati che rappresentano questo tipo di esercizi sicuramente sono agguerriti, però abbiamo tenuto duro, siamo fermi sulle nostre posizioni perché ci sembrano posizioni di civiltà che tutelano dei diritti, di diritti alla salute, alla difesa di persone psicologicamente deboli che potrebbero bruciarsi, prima si parlava di erediti, di erediti bassi, parte dei loro erediti bassi nel gioco e quindi abbiamo tenuto duro in difesa di principi che secondo me sono principi di civiltà. Benissimo, diciamo anche una cosa che evidentemente gli uffici del Comune hanno ben lavorato perché insomma hanno ben lavorato, ancora ieri pomeriggio ho fatto una riunione e colgo l'occasione per ringraziarli pubblicamente sia con l'assessore Fiorini che con dirigenti del settore commercio e funzionari nostri dell'avvocatura, avvocati comunali che hanno lavorato anche sulle cause presso il Tribunale amministrativo, li ringrazio molto, sono stati bravi e grazie alla loro professionalità che esiste nell'amministrazione pubblica… Ma io ho fatto questa sottolineatura appositamente perché credo che poi sia anche facile… No, certo, perché parlare sempre male di dipendenti pubblici non è proprio corretto. E poi si fanno generalizzazioni che sono profondamente… Ecco, quindi continueremo su questa strada. Benissimo, siamo arrivati al termine, alla chiusura del nostro appuntamento, vi ricordo che chiunque voglia rivolgere delle domande a Marco Doria può farlo inviando una mail all'indirizzo sindaco-primocanale.it. Buona giornata e buon lavoro e ai nostri telespettatori il consenso invito a rimanere sintonizzati sulla loro televisione.